un sentito e tranquillo buon salve a voi e bentornati su victoria 3 e alla nostra travagliata italia bradley oggi cosa si farà grazie per la domanda beh ci siamo lasciati alle spalle puntate abbastanza vissute con carlo e tutte le faccende all'interno dell'europa andiamo a vedere la nostra infamia una calmattina ce la possiamo dare non è che non è più 25 radical from conquest quindi stiamo belli calmi anche se in verità non voglio conquistare voglio pappettare da adesso in poi per quello per quello che sarà però allora due tre cose prima il sondaggio su cambiare forma di governo ha vinto la monarchia quindi la manterremo con un 52 per cento di voti a favore quindi signori mi dispiace brameloni per gli altri repubblichini ma no non è andata non è andata bene per voi poi io stavo riflettendo per i cazzi miei noi siamo ottavi e bloccati dall'essere ottavi perché in qualche maniera il gioco definisce noi essere nel mercato inglese essere suo subject quando in verità probabilmente saremo sesti se vado a vedere qua mi pare che sia siamo sesti o qualcosa del genere e pensavo ma che vantaggi comporta essere un great power alcuni di voi mi diranno intanto che hai il contornino dorato con le alette sì è vero è molto bello però non è un buon motivo per lasciare il mercato inglese altri mi diranno puoi mettere più dichiarare più interessi nel mondo con il great power sì è vero però ho già tutti gli interessi che mi che mi interessano cioè al massimo sposto questi sei e fine destra e sinistra cioè pace amen no ce ne sono degli altri io non ne conosco quindi per conto mio non ci sono buoni motivi al momento per lasciare il mercato inglese anche perché stiamo costruendo al minimo e siamo un po in rossino qua non capisco per quale motivo adesso adesso finita tutta sta trafila qua andremo a metterci bocca un pochino su quella faccenda qua però il nostro piano principale oltre a quello di perdere un attimino di infamie era quello di andare a prendere in giro la tripolitania che però che però è amica dell'austria e quindi ritorneremo di nuovo a doverci giustrare tutta sta faccenda con l'austria in più c'è mezzo mondo gli interessatori cazzo dopo gli stati d'america sono interessati lì che palle un altro posto dove si potrebbe fare qualcosa forse forse sono un non so bene potrebbe essere la grecia forse lì ci sono meno interessi dove pappettare oppure potremmo tentare di pappettare l'egitto lì ci sono ancora meno interessi c'è quel c'è l'interesse inglese però se noi togliamo quello c'è solo quello americano che ha 170 è come l'esercito americano insomma se vuol venire a prendere da carlo in carrozzina lo può fare però vanno valutate bene queste cose qua non è una roba da lanciarsi subito così di pancia lo sapete ci è voluto un po di tempo per arrivare dove siamo arrivati adesso e probabilmente ce ne vorrà altro per finire tutta sta faccenda questo questo comunque sono gli obiettivi insomma un po di espansione qua nel mediterraneo dove possibile ma intanto nel breve termine dobbiamo capire perché siamo a meno 37 la di big money e qui 134 government wage a me non piace neanche un po ma neanche un po sarà forse per qualcosa di questi c'è possibile andare ad analizzare ancora di più questi 134 76 from administration ho fatto ho esagerato un pochino con l'amministrazione può darsi tecnicamente però adesso abbiamo infatti perché è così alta adesso l'amministrazione prima era bassa adesso è altissima vediamo un attimino se è possibile declassare un po tutta sta faccenda allora taxation capacity è al limite qua e mi sa quella quella in lombardia è fin troppo alta quindi qua possiamo venire e smantellare un paio di costruzioni a 9 a 9 un paio di palle abbassa subito paio di botte in meno ecco già così stiamo risituando le sito gli darei ancora una botta ovviamente dall'altra parte so che è un peccato perché poi questa roba qua ci va con una botta solo dai da questa parte qui ci da poi la botta che se un giorno ci serve dobbiamo ricostruirla e perdiamo il doppio però 336 mi pare giusto qua siamo addirittura sotto what the fuck man ma perché 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 costa tutto così tanto puttana eva perché costa tutto così tanto devo andare ad assicurarmi devo andare ma qua c'è il clero che sta gestendo la faccenda che non sarebbe neanche negativo ne perché avevo letto l'altra sera una roba su sta cosa qua vabbè adesso non dico niente però meno 22 ok proviamo andare a aumentare un attimino beh penso che con quello che esportiamo adesso allora qua abbiamo finito la centrale elettrica sta esportando un po di money qua da noi mica male né undicesimo power plant al mondo vi volete dire però non sta assumendo più di tanto mi pare di aver capito aumento velocità ma mi pare che ci sia un po poca gente che sa fare queste situe qua e i treni costano un boato zero tra l'altro il mercato è vuoto di treni signori secondo voi oh abbiamo le scuole pubbliche finalmente meno potere alla chiesa treni si difettiamo di treni ok o meno 4.8 erano queste che ci stavano ciucciando un sacco di soldi perfect avevo nella mio piano malvagio di costruzione di tutto ho messo i treni a parte la carta puttana eva no andiamo a vedere un attimino quali stati già contengono dei treni e andiamo a migliorare la prestazione e il servizio Piemonte 379 Venezia 400k io sto iniziando a pensare che molto bello anche i romani no da 400k sono veramente tanti Venezia beccati un paio di fabbriche di treni Piemonte beccati un paio di fabbriche di treni così aumenta la situa andiamo a cercare di sistemare la faccenda e quindi penso sia alla fine adesso quando finirà questa qua penso sia quello poi ovviamente sto sfornando altri vestiti perché per cui qualche cazzo di motivo non c'è mai nessuno che riesce a vestire al 100% le persone noi siamo tipo settimi nonni stiamo bar camminandoci tra le migliori aziende ever la Boboni Uprising dove è la Boboni Uprising? 2 fronti? 3 fronti? ma non se li hai gli uomini per 3 fronti ma che vada a fare la corsa campestre dai non hai gli uomini per niente vabbè schiacciamo schiacciamo la Uprising insomma diamo gli cagni eh perdo un po' di soldi perché ovviamente abbiamo da leggere comunque tante qua ne ho messo uno vedete hanno deciso che questo sarà il fronte dove combatteranno bravi bella Uprising molto bella ma questi qui tipo bangasenala così non si può ah si posso semplicemente colonizzarli stiamo già facendo le stiamo colonizzando forse aumentare un po' non vorrei andare troppo a colonialismo perché ho in mente per il futuro qualcosa del genere quindi facciamo così allora abbiamo fatto cosa che c'è non c'è abbastanza burocrasi per le nostre istitution non si può riarrivare al 4? qua a coloniale era già al 3 in effetti adesso che abbiamo l'educazione e anche l'assimilazione si dà questa è una cosa molto importante che voglio fare per il futuro o forse no o forse sì non lo so bene indecisione totale sti cazzi ragazzi orca puttana mi ha messo una truppa anche di là perché lui non poteva eh io sai cosa ti dico ti metto la marmora la marmora e le sue avventure in Africa la Francia vuole vuole che entriamo di nuovo nel suo mercato fa beh a questo punto eh a questo punto d'attacchia il cazzo fottiti quel treno è partito ciao una Francia va buono questa non è la stessa rivolta di prima questa è un'altra rivolta che stiamo schiacciando ma non è questo che volevo farvi vedere anche se adesso dovremmo finire tutta questa stupidaggine qua con la capitolazione del nemico che ha ancora un sacco di war support come potete notare nonostante non abbia praticamente più territori ecco qua lo so che il generale non sta più a fancazzo possiamo considerare no non potete loro non hanno più niente però siccome non non è passato abbastanza tempo non si può far la pace capito? che 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 meccanica intelligente comunque a parte a parte questo stavo dando un occhio al fatto che ho scoperto i fucili bolt action che sono quelli tum clac 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 tum clac 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 eh ok non so mi viene da fare meglio però l'industria delle armi è sempre sfigata guardate cioè se uno dovesse cambiare il rifle va in perdita cioè non c'è un guadagno netto di quelle cose qua mi fa sorridere e pensare che cazzo stiamo facendo mai del nostro futuro cioè l'industria delle armi perché è in perdita? perché è sempre questa qua è in rosso questa qua è in nemiglia è in rosso per qualche motivo io non a questo giro a questo giro se fai magari mi faccio fare i rifle vediamo magari con i rifle riusciamo a migliorare un po' la cosa però mi sembra io avrei bolt action adesso vorrei far quelli però mi sembra che tutta l'industria dei fucili sia un po' delle armi sia un po' sminchiata in più su Tirolo ah è su Tirolo su Tirolo sta già facendo quelli a ripetire quelli belli quelli a leva clac clac pam 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 bellissimo questi qua mi piacciono di più chissà perché quelli a leva sono più sfigati secondo loro dei bolt action secondo me sono alla pari uno che fa ripetizione da vicino secondo me è meglio tum 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 gli spari dentro vabbè possiamo perdere con le cose mie personali che non c'entrano un cazzo comunque servono munizioni servono un po' di tutto adesso costruisco però sapete che roba visto che siamo già andati un po' avanti con tutta sta faccenda a me non frega un cazzo io butto adesso è 3.24 ma è normale sto gioco qua o c'è qualche disabilità generale butto tutti butto tutti quelle lì migliori però qua c'è veramente un un non esserci ecco dai diciamolo small arms costano di più forse se faccio questo diventa più profitable quell'altra ci provo mi pare che sia ancora il rosso però meno il rosso di prima con i muskets saremmo tipo rinuncio ufficialmente a capire come funziona l'industria delle armi in questo gioco ho appena ho appena schientato tra l'altro le aziende tutte tutte per qualche motivo per qualche motivo sono morte dentro guardate che roba non assumono e sono in in difetto adesso che gli ho alzato la sito l'altro il gioco lagga bomba fatemi fare pausa e salvare perché ho fottutamente paura che cresci il gioco adesso vediamo se possiamo chiudere sta guerra prima no no white piece oppure non puoi forzare i demand nonostante ci hai conquistato totalmente vabbè boh i misteri sto facendo sto rimodernando la marina no quindi abbiamo il nostro Tommaso Caracciolo che si è beccato la marina a quanto pare abbiamo abbiamo comprato gli iron cladi a quanto pare vedete una dottrina di ferro e vapore l'introduzione dei vascelli di metallo rappresenta niente se non una rivoluzione nel combattimento navale Tommaso Caracciolo assicura che noi italiani domineremo i mali i mari i mali vabbè ma lì si intende il posto navi defense no metal bows metal rams cosa potrebbe mai andare storto e forse questa è una citazione di quando abbiamo tentato contro gli austriaci che avevamo le prime iron clads di speronarli invece che di spararli addosso sarebbe veramente una stronzata bellissima oh Italy Italy rules the waves non ci credo neanche un po' però è stupendo allora perché l'ho fatto perché si voglio andare a prendere il giro l'Egitto mi sa che l'Egitto non è così lontano dai nostri cioè è una guerra interessante fattibile l'unica roba 30 30 infamia 30 infamia per aver fatto cosa 30 infamia si è alzata perché ho assorbito più gente qua e là ma scusatemi sono loro che mi hanno attaccato se loro non mi attaccavano io non assorbivo niente ma che problemi mentali che problemi mentali però sti cazzi perché è lì che voglio andare adesso qua stanno diminuendo ancora qua sta risalendo un pochino questa roba qua per me è totalmente rotta io ogni giorno cerco di dare sempre più sedi alle persone e loro sempre di più non ce la fanno e vestiti sedi e vestiti a Yosa mi sto dando ma loro no persistono che non va bene vorrei veramente la Tripolitania però prima ma l'Austria si mette non so se avete notato se facciamo Puppet probabilmente la Tripolitania si mette contro di noi va 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 vero comunque stay tuned perché l'invasione dell'Egitto è stay tuned poi è una possibilità oh boy questa non me l'aspettavo qualcuno ci sta venendo a chiedere una mano perché avete 803 che cazzo sta facendo l'Indonesia what? what? qui in cazzo cosa stanno facendo gli inglesi cosa stanno facendo gli inglesi perché gli inglesi stanno mettendo bocca nelle Filippine oh mio dio diplomatic play perché roba diplomatic play vuole subgiugarli e il portogallo e il king supportano invece quello staterello di me ma sì ma Fidek certo cos'è che mi offre mi offre un'obbligazione ah accetto proprio quello che ci voleva per noi italiani un po' di baruffa alla vecchia andiamo a prenderci l'oppio dai Chinese wait 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 mi hai svegliato però io oh è vero non è che mi ha promesso niente nel play a parte a parte la situa io ci guadagno niente che sta facendo qua volevo un pezzo di territorio vigliacco vabbè vabbè niente di che allora dobbiamo andare in guerra contro Portogallo figa il Portogallo qua secondo me non riesce vivo niente noi possiamo arrivare a parte di attaccare il Portogallo direttamente da lì penso che ci convenga oh le colonie combatteremo nelle colonie figli della merda allora signori questo taglierà un po' le gambe alla nostra industria ma sapete cosa vi dico per quale motivo no andiamola con le nostre due andiamola con Carlo e con a me dio e ci infiliamo lì poi l'Inghilterra combatterà dalle altre parti e li secchiamo lì poi dopo andiamo si teletrasportiamo verso la Cina non lo so non lo so bello però mi piace finalmente colonial clash una delle nostre spedizioni coloniali nel Gabon ha incontrato truppe americane nella regione che domani ci dicono di tornare indietro what Clemon Gabon negli Stati Uniti what Francia Stati Uniti non me ne ero manco accorto gli Stati Uniti stanno colonizzando l'Africa bravi gli Stati Uniti per farci cosa queste persone qua vacca puttana se hanno l'odio nel cuore missione cristiana gli americani stanno in full disagio qua in mezzo l'Italia non sarà deterred che adesso non mi viene tradotto in Italia prendiamo altre trici di infami perfetto stiamo salendo con l'infami come se non ci fossero 44 mego ioni le nostre conquiste verranno sempre più ritardate così per fortuna però che abbiamo un Pegu di Bombay Pegu non è mica qua ah è il fronte è infatti non è il fronte è tipo Pegu di Bombay Bombay è questo Pegu Pegu di Bombay adesso per te quale cazzo è penso fosse questo qua vabbè saranno anche affari loro noi non ci tiriamo indietro da una buona scazzottata speriamo che le stupo arrivino lì anche velocemente che non voglio perdere territori contro i dannati portoghesi ci voleva un po' di questo parlamentare alla vecchia no potapim e patapum alla buona però fide che ste colonie mi stanno uccidendo e così così le fermo sto accumulando più infamia dalle colonie senza voler combattere cioè succede e basta che a fare qualsiasi altra roba ma è guerra invece fide contro i queen che siamo andati facca puttana se li saltiamo nel muso e tutte le vai ci siamo anche noi ragazzi però i nostri generali non sono ancora arrivati in quanto tempo arriveranno scusate c'è scritto in quanto arriverete in 33 giorni e ancora un mese senza situa lì vabbè tanto non c'è nessuno comunque quindi easy win in questo momento per ora cagni non lo liberano lo sguinzaglio general moved general moved non so gli inglesi devono partire loro con l'invasione ci avranno qualche base nel cazzo di qualche isoletta loro faranno loro noi per ora ci limitiamo semplicemente hanno messo una divisione che carini e vincono perché ovviamente non c'è nessuno adesso appena possiamo ci mandiamo là di tutto di più l'unica sarebbe far capitolare il portogallo immediata subito che gli inglesi hanno qui la base di bilaterra in verità viene proprio comodo spero lo facciano loro noi stiamo andando anche in positivo cazzarola ma che bello proprio di quelle guerre sportive dove guardiamo e basta perché poi alla fin fine non è che c'è molto da dire un giorno dovrebbero essere arrivati al fronte eccoli lì abbiamo di nuovo Carlo che intanto ragazzi non ve lo dico neanche ha 99 anni è quasi centenario per Carlo cosa sta succedendo qua stiamo già avanzando totalmente abbiamo schiacciato lì abbiamo schiacciato là mi ha spostato tutti i generali qua sua madre è veramente stronza la roba qua di switchare i generali dove cazzo vuole la devono fixarla farmi sapere cosa vogliono fare perché non è normale dobbiamo aspettare che questo arrivi di là e che poi ingaggi sono noiosi però il regno d'Italia sta prendendo ciò che gli appartiene perché è che non potremmo tenercelo ma buono intanto noi piano piano combattiamo le colonie io sono interessato di vedere se l'Inghilterra riesce a fare qualcosa direttamente nella zona di nostro interesse da queste isolette saranno inglesi no? South Filippine di chi sono? della regia Inghilterra marina regia situa gli inglesi sono occupati qua sul fronte delle colonie giuste portoghese vabbè vedremo come si mette la faccenda Prospero di Savoia era il trono d'Italia e nato Prospero di Savoia è morto centenario Carlo se ne è andata Carlo è morto a cento anni facendo ciò che amava sparando sulla gente in giro per il mondo Carlo sarà ricordato da tutti Vittorio Emanuele settantottenne ferito un grande diplomatico ambizioso ormai ormai che cazzo ormai che vuoi fare ormai cosa vuoi fare non glielo do neanche il comando e adesso abbiamo un nuovo air che però non mi ricordo dove cavolo si guarda l'air anche l'altra volta mi sono perso via non so dove cavolo fosse forse qua il governo eccolo qua sì ecco ma che cazzo c'è tipo il vestito che clippa o ha già i guanti rospero è un tradizionalista e te sei uno di quelli che sta con i landowners te che sta sempre di cazzo niente ci serve un nuovo generale ragazzi per comandare cinquantotto battaglioni qua recrutiamo recrutiamo chi c'è Francesco Zunica o Ugo Filomarino Reckless Filomarino mi piace Filomarino però puttana Eva ti piace fare le situe imperioso guardate qua non gli piace la situe stalwart defender mountaineer expert qualsiasi cosa di Francesco Zunica io ce lo pianterei dentro per la difesa no quest'uomo qua sulle montagne se dovessimo andare ancora a pette con tanto c'è Cagni che attacca Zunica a te il comando di venti unità peccato che fai un po' cagare ti promuoverei anche però per ora per ora teniamo per ora teniamo botta così finché c'è Cagni vivo che è alcolizzato ma almeno sta bene tant'è comunque Zunica va a fare qualcosa vai a combattere sul fronte portoghese qua noi intanto stavamo tentando uno sbarco nei king qua vedo che qualcuno si è già propinquato probabilmente adesso vedrete che Cagni verrà mandato in azione appena possibile ma noi stavamo tentando uno sbarco qua sotto infatti c'è però un porto qua di Macau quanto ci vorrà ancora qua per lo sbarco eccolo qua siamo stati intercettati probabilmente dalla flotta cinese ma gli spariamo addosso cannoneggiamo guardate vabbè questo è il massimo in Istria e in Guangdong vabbè non voglio sapere niente fatto sta che gli stiamo con le nostre ironclade siamo fighissimi perché abbiamo le ironclade loro hanno delle navi di merda però la guerra è finita no ha soggiogato quelli là e quindi rimane la Cina beh basta farci pace bianca e siamo a posto ma la Cina perfetto manco manco la soddisfazione manco manco la soddisfazione di vedere l'invasione fatta manco proprio a merda a merda più totale e in più ci abbiamo perso il povero Carlo finalmente Vittorio è andato su puttana Eva quanto sono triste per tutta quella faccenda qua prosti cazzi dai perché stiamo ricercando landing craft che togli i debuff ignora la difficoltà del landing penalty quindi poi dopo per invadere l'Egitto sarà chiaramente uno scherzo però abbiamo perso un gran generale oggi signor oltre gare dovremo dovremo piangerlo perché perché gli americani vogliono venire a scherzarmi il cazzo cioè fatevi i cacciacci vostri niente loro insistono insistono che secondo loro quella parte qui sotto è americana la vogliono loro col Gabon eccetera 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 ma il loro claim cosa ci interessa noi quando siamo arrivati qua prima apriamo altre trici infami io ragazzi non attaccherò più nessuno non attacco più nessuno perché per tenere ste cazzo di coloni in Gabon che comunque danno la gomma quindi sacro santo che ce l'abbiamo noi ci si tocca stare così svolvolo questo di mia università in Puglia vai tutto tuo amico mio frega cazzi io so quello abbiamo le elezioni 76 giorni e volevo chiudere la puntata con quello per vedere un attimino come swingava il governo però gli attriti con gli americani sono che poi puttanevano ne hanno messe di colonie giù qua gli americani guardate una due tre testacce di cazzo vedi a fare i furbi con chi c'è su ma chi Isaac Miggs Miggs chi ti conosce guarda vai è una sfilza di sito poi sei infame quanto me te è 48 praticamente si sei infame quanto me quindi niente con la pressione degli americani non l'avrei mai detto degli americani che ci stanno col fiato sul collo perché vogliono le nostre colonie nel Congo ci salutiamo per questa puntata e ci risentiremo alla prossima dove spero tenteremo l'invasione dell'Egitto il punto è proprio quello di non avere troppa infamia però qua mi sta continuando a salire alla cazzo di cane polacchi in Sardegna ragazzi un saluto un saluto che cazzo di che cazzo di